L'avvertenza Gela, finalmente assurda a caso nazionale, è stata al centro della puntata di Agorà andata in onda ieri sera su Canale 10. Da Gela e da Palermo dunque, la palla passa una volta per tutte a Roma, laddove cioè è stato creato il problema Gela e dove ora si deve assolutamente provare a risolverlo. In città restano le macerie del piano industriale voluto dall'ENI e ratificato da un governo nazionale di comune accordo con il governo regionale e quello cittadino che ha guidato Gela negli ultimi 22 anni. Ossia quel fil rouge che da Gela, passando per Palermo e per arrivare fino a Roma, è stato a conduzione assolutamente PD. Da martedì, da quando cioè i lavoratori dell'indotto, a spasso da oramai troppo tempo e persino senza più nemmeno l'elemosina degli ammortizzatori sociali, hanno cominciato ad inscenare i blocchi stradali ai principali ingressi alla città, la vicenda Gela si è spostata nella capitale. Al Ministero dello Sviluppo Economico, ieri si è tenuto un primo incontro alla presenza del sindaco messinese, del presidente della regione Crocetta e del sottosegretario del governo Renzi, Simona Vicari. Quello che si è ottenuto è assai poco, ma è stato considerato un primo passo verso la soluzione dei problemi più gravi. Mercoledì si torna a Roma e stavolta l'interlocutore degli amministratori gelesi sarà il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Di tutto questo dunque si è parlato nel salotto televisivo di Agorà, in studio, assieme al conduttore, due lavoratori dell'indotto gelese, Emanuele Zappulla e Franco Biundo, ed ancora il presidente della Confcommercio Locale, Francesco Traenito, il responsabile dell'associazione Cifra, Emanuele Antonuzzo, e l'ingegner Fabrizio Lisciandra. Nel corso della trasmissione sono intervenuti telefonicamente in diretta da Roma sia il sindaco Domenico Messinese che il suo vice Simone Siciliano. Ad arricchire poi di spunti la puntata di ieri sera di Agorà, anche le interviste con il vice presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, in visita a Lampo, ieri pomeriggio a Gela, assieme ad altri esponenti di spicco grillini, come il deputato regionale Giancarlo Cancelleri. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo attraverso la replica integrale, che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure sui nostri indirizzi social, il sito internet www.tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che interessano Gela e Digelesi.